Musica Concerto per Papa Francesco dal carcere due palazzi di Padova, il pontefice saluta i detenuti durante l'Angelus. Questa mattina a Roma Papa Francesco ha aperto la porta santa della Basilica di San Giovanni in Laterano. È la seconda chiesa papale dopo quella di San Pietro e sede del vicariato di Roma. Dunque questa è un'altra domenica molto importante per il Giubileo della Misericordia che si è caricata di un significato speciale anche al carcere due palazzi di Padova dove si è tenuto un concerto dedicato proprio al Papa e dove i detenuti hanno ascoltato l'Angelus. Ma per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Milva Andriolli che si trova proprio a Padova al carcere due palazzi. Buon pomeriggio Milva. Sì, buongiorno. Allora un filo diretto tra la piazza San Pietro a Roma e qui in carcere due palazzi di Padova. Papa Francesco che ringrazia davanti al mondo intero in particolare i detenuti del carcere due palazzi per il dono del concerto. Un dare avere nel segno dell'umanità per chi ha bisogno di perdono, ha detto Francesco. E qui dietro le sbarre per questo evento davvero speciale, per questo regalo speciale, c'erano 80 ragazzi, i famosi Pollicini, i ragazzi dagli 8 ai 18 anni, l'orchestra giovanile del Conservatorio Pollini di Padova che hanno suonato. In platea 150 detenuti, molti ergastolani. Sì, con me qui Arman, Arman Davide perché è musulmano, albanese e convertito. Sì, io provengo da una famiglia musulmana, cioè entrambe le parti, la mamma ce l'ho greca, ortodossa, che parlo di greco anche, e il papà ce l'ho musulmano. Quanta emozione sentirei Papa Francesco? È un'emozione fortissima, un'emozione che non avrei mai immaginato nella mia vita, specialmente di sapere, anche di vedere direttamente, di avere un confronto direttamente diretto con il Santo Padre, è meraviglioso. Quando disse poi la frase del... La porta santa. La porta santa, dice una porta santa, un detenuto è una porta santa, per me è come se... non come, ma è una libertà già aperta. Con noi anche Franco, sentire Papa Francesco? È un orgoglio, non solo le porte aperte dalla cella, ha aperto il cuore di tutte le persone, e non si stancherebbe mai di sentirlo parlare Papa Francesco. Allora, abbiamo un ospite speciale e noi vogliamo chiudere e restituire la linea con chi ha suonato, non solo per i detenuti, ma anche per Papa Francesco, Alessandra, dieci anni, violonista, e allora? È un'emozione grandissima, suonare in orchestra, perché mentre tu suoni da solo, puoi esprimere tutti i tuoi sentimenti attraverso lo strumento. E pensare che eri dietro le sbarre? Pensare che ero dietro le sbarre, anche questa è un'emozione meravigliosa, che tu puoi suonare per delle persone che... Hanno anche bisogno di te? Sì. E hanno bisogno della musica? Sì, perché sono sempre degli umani, hanno dei sentimenti. Allora, con le parole di Alessandra, dieci anni, dei Pollicini, dal Carcere Due Palazzi di Padova, allinearlo studio.